Una serie di corsi sulla comunicazione hanno visto protagonisti interessati gli infermieri dell'ospedale Fracastoro ed in particolare chi opera nell'emergenza e nel pronto soccorso. Riconoscere come il nuovo codice deontologico fa la prassi infermieristica anche come relazionale significa comprendere il bisogno dell'altro. Un vero e proprio patto assistenziale che ha conquistato negli anni una sua specificità all'interno dei percorsi terapeutici e clinico-assistenziali, dando alla competenza infermieristica un ruolo protagonistico, attivo e dinamico nel rapporto col malato. Nell'ambito del nursing, ovvero dell'assistenza infermieristica, in modo particolare la comunicazione terapeutica porta all'instaurarsi di un valido rapporto tra infermiere e paziente, tale da facilitare la guarigione. Ragioni tutte per le quali i sistemi sanitari hanno bisogno, oggi più che mai, di infermieri preparati, capaci di rispondere con efficienza, prontezza e qualità alle nuove esigenze della popolazione.